button check ohhhh aiuto no devo trovare per cambiare i nomi thank you ok aiuto chiamate Mazzy e siamo ci siamo ci siamo aspetta perchè non me lo cambia ah si no si partiti no è al contrario sicuro sicuro aumenta aumenta ok no 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 era giusto prima per la paragonina è costretto a cambiare la paragonina tra levo xayu c'è xayu contro due personaggi vediamo cosa riesce a fare tra il 4 king sbaglia la giacol però niente il 4 king no stutter buono per carlo vediamo se riesce a massimizzare il danno si entra nina bomba a muro attacca xayu vediamo entra king e king contro xayu non burga vuoto polacco presa schiva la presa dietro 1 2 non burga carlo basso di king entra ancora basso stavolta bravo carlo su reazione pare il passo non burga il polacco niente vai al giaco carlo non burga ancora il polacco dovrebbe approfittare carlo di queste cose è tenito non so cosa forse sta provando a mantenere vantaggio salute la burga mi sa che vince il round il polacco per vantaggio tempo forza carlo forza tipo da staglio mazzada in if you round di carlo che riesce ad entrare nina wall carry king ancora lì e c'è armorking in rage vediamo un po' f3 dxayu entra toglie in rage armorking in campo rientra forse invece no rimane armorking in campo e muore presa e muore perchè g4 è combo non la fa carlo robo 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 rando mazzada in ina p2 cosa fortissimo dietro 1 in counter di king vediamo quanto riesce a togliere la coppia delle tigri niente c'è il muro storto wow 1 2 real di rialzo di ina tutto intero bravo non entra non so perchè c'erano cose strane la mentele del polacco che non si accolla qualcuno per tempo in polacco bravissimo vai alla combo troppo capienza momento topico non so entra un mostra strana di carlo niente il polacco mi sa che non c'è un po' tuffo di king la tigre si tuffa calcio polante che non è completato però si sa che sia un trenerialzo no carlo si tuffa king in rage mazzata di king che non entra se c'entrano con le ferie strane entra il muore king tutto avanti d'uno carlo pulga bene ma non si abbasta ah brutto qui peccato peccato la facca succede non so cosa è laggi? è laggi? disconnetti solo disconnetti cose a caso succedono cose misteriose vabbè si prosegue spazzata di nina sul basso di king spostamento 2 che purtroppo non connette bene ma rientra 1 2 1 più 2 di nina buttalo già l'entra king armor king contro due personaggi niente lo splatta muro botte da orpi pigna sinistra e destra mi sa che è finita ancora no ma c'è troppa difficult è un moment attenzione attenzione prova alla rimuncata non si arrende il polacco schiaccia nina nelle parti intime entra xayu calcio volante di schiena trocca non si arrende il polacco con uno briciolo di energia ma si tuffa non so perchè avrà sbagliato mossa vediamo un po' tech della presa Carlo chiude lo scambio e si porta il primo match carlo carlo si in 2-2-1 tre va a battare sono consigli per entrambi player carlo carlo si 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 middle of the match because bla bla lag I rish eric ho ho a me mi piace terza dimensione ma noto comunque una cosa che in qua i match durano un boato ed perché ci sono due personaggi e boato più tre round più al meglio delle tre Sì sì sì, durano veramente parecchio le partite qui Però dipende perché se c'è tanta differenza di player Bastano poche combo per ammazzarti Sì, attenzione, però vediamo un po' Intanto c'è tipo da stadio qua per l'italiano Porta un muro, lo splatta, Nina, Volker, impressionante Proc Calcio volante di Armor King Una scimmiata quella Sì, buona scimmiata Buona scimmiata Presa di spalle Oh, strani occhi da qua Attenzione alla rimonta La rimonta Però Carlo entra andando in Fenice E si porta via il primo round così Bravo Carlo Sa che Carlo per ora sta dominando la partita Uh, entra l'alitata di Nina Oh Non entra il wall splat Attenzione, via un po' Oh, King si passa bene sul basso, sull'alto Juggle Tag combo Combo Ancora Preta cattivissima Indrax EU Ma si tagli non sono scoperti Sì, però dipende dove arriva l'avversario Oltre di comporta Non è Marvel La pressione di MitroStorm Purisce benissimo Quindi questa tag a vuoto Oh, muore? No Tutto storto Tutto storto Conta anche la geometria Attenzione perché il range, no? Sì Ha fatto una strana brezza qui Continua a fare pressione il polacco Però si scopre Ah, si scopre Si scopre Si scopre Ah, attenzione Boom Intounter non è confirmato Con il just frame Mi sa Ah, quella Presa tech Presa parata da parte di MitroStorm Che continua a fare pochi in con Nina Uf1 Uh, ha provato a punire Peccato L'idea era giusta L'altro fortunatamente per Carlo Non ha punito Ancora Uf1 Uh, gente swing Vediamo se Carlo te crolla Non ha tecrollato Boom Però tanto vantaggio Carlo Nezzo con Sayu Esatto Off Off Reset di Carlo Ho fatto un bel pezzo qui Mezza barra per Armour King È andata via DP4 Armour King Ancora DP4 Non ha fatto la combo Però DP3 Correggono Vola questo round Per Carlo Ma è ancora in vantaggio Forza Carlo Non si arrende il polacco Ancora DP3 Ancora DP3 Insiste con i bassi Il polacco Caspita Spero tecrolli Perché se no è finita E non riesce Io commento Deve tecrollare Sì, deve tecrollare Deve premere il tasto del roll Appena tocchi terra Se no toglie Danno pieno Sono 70 punti Marona Carlo non purga Di calcio volante Un po' teso Mi sa Vediamo un po' Vediamo un po' Entra King Poi il piatto Che non è stato Punito a dovere Intercetta in volo Però non Ottene una giacol Completa Spazzata salva Di King Corsa a calcio volante Punito da Carlo Ah Non so Attenzione Attenzione E' finita E' finita Uno pari La puoi cercare E riprendiamo Sull'uno pari Entra in counter La spazzata Di Almor King Prefone ancora E' bravissimo Questo giocatore A mettere le prese Niente Carlo Continua Continua A non decrollare Sulle prese Di urla per comandi Per il tech roll Attenzione Non è quello Per il tech roll Ah ok Perfetto Boh Bam Ottimo Qua è entrato Non so come Perché non capisco Cosa succede Sullo schermo Ma cos'è Gli è camminato sopra Pamba Presone Ancora Vediamo se il tech roll Ma mi sa che c'è un muro Esatto Non poteva fare niente Questa volta Ha fatto bene Al Monk's Bucking Andare a terra Vedo in grosse difficoltà Il nostro italiano Aiaiaiai Vediamo se riesce a rimontare Vediamo se riesce A fare il comeback Con Xeyu Si trova in una buona posizione Qui perché c'è il muro Vediamo se sfrutta Questa situazione Presa infatti Però lo Sposta dal muro Vediamo un po' Cosa succede Guadagna la rage Armor King Potrebbe sfruttare Anche il tech crash Non lo sfrutta Mi sa che ha vinto Carlo con questo tuffo Vediamo un po' Si entra Esatto Tipo da stadio Ancora Succedono cose strane Presone No tech Dietro uno In counter di Armor King Lo taglierà un bel pezzo di bar Invece no Continua a succedere cose strane Con gli hitbox Aia tag combo Che leva un casino Entrerà l'altro Combo su combo Starter su stun Infatti si Succedono veramente cose misteriose Boom Di tiramini a cannone Sta rimontando Spazzata di Carlo Forse eccessiva Unsafe Unsafe Non c'era bisogno Secondo me Aiaiaiai Presone di King Toglie un bel po' Vediamo se Carlo riesce a scappare Dove rientrare Xayu Esatto Vediamo Xayu di Rage Se riesce a recuperare la partita Contro due Tigre Barra Viena Entra un counter Adesso dovete pazientare Che torna Mazzin Kaiser Per eventuali cambi strani Non muore Xayu Invece l'ally kick Riesce a Mazzin Kaiser Stiamo due round a uno Per Mitro Storm Molacco non ti arrede Ancora Presone Bravissimo 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 Anche Carlo C'ha intuito Il presone Ha tirato Una spostante Tutta la combo Toglie più di mezza barra Un calcio volante Ritardato Oh mio dio Oh mio dio Le dracole Grandissimo Riesce a cambiare Il cupazzo C'è King In Rage Contro Xayu Situazione pericolosa Per Mazzin Kaiser Che deve portarsi a casa Questo round Oppure Finisce la Rage Entra una spazzata Da lontanissimo Muro Dovrebbe rientrare Armor King Eccolo qui Oh Cazzo è successo Collisioni assurdi Il circo 4 Xayu Che finisce il round E vince Carlo Stiamo su 2 a 1 Per Mitro Storm Eh sì E' diventato 2 a 0 E' diventato 2 a 0 Invece è 2 a 1 Ah Perché? Cambia Popazzo Consiglio No no per lui Potrebbe essere il match point Per Mitro Storm Vediamo un po' Consigli in polacco Consigli in polacco Con svariate parolacce Che è solo curva Sì anch'io Come va lo streaming? Entra un rialzo Di Nina Così Diretto Ok L'infinita Combo è finita Presa da dietro Credo E di lato UF1 Da rialzo Un po' muzzo Però entra E fa il suo dovere Prof Pazzata L'avversario Riesce a intercettare 4-3 parato Presa 2 Carlo non schippa Vediamo il gioco a terra Aia Questo fa male Non entra la combo Mi sembra Quello stage Capitato il più brutto Di tutti Potrebbe aiutare Carlo Questi king Ah Vai 2-4 non lo fa Si confonde molto Armor King Penso che non capisca Gran che di XAU E F2 Bravissimo Carlo Qui Ok With Punish Ma cos'è? L'infinita Combo infinita Proprio Marvel style Sì Marvel contro Capcom Nina Un personaggio Tipo Fortissimo Entra Lo sta sbranando Ancora Balladstorm Infinite Oh Perfect E attenzione C'è questo XX Ultras Che vuole il gioco pulito Dice Guarda quante spazzate Porco Bip In questo gioco Povero XXUltra Mi sa che non potrai avere quello che vuoi Hai sbagliato gioco Prova non so Con Starcraft O non so League of Legends Mario Kart Sì Non Tekken Tekken e pulizia sono due cose un po' così Così Opla Niente Tekroll ancora per Carlo Ma mi sa che è andata C'è troppo vantaggio bar In realtà vado a giocare per il polacco Ma troppi round di vantaggio Non fa la combo Pazzata Mi sa che è finita Attenzione Attenzione Eeeh FIFO DA STADIO Ma poi era forte questo polacco Sì Era forte il polacco 3 a 1 E Italia Contro Polonia Vince l'Italia Eh sì Grazie